buongiorno e benvenuti al mio canale oggi è il secondo tutorial che dedico a cap cut questo programma se si può definire programma perché si può usare sia da browser cioè da una scheda del browser sia da applicazioni per android per iphone e ipad sia anche come programma del computer esattamente come programma del computer windows oggi vedremo una cosa specifica di cap cut nel primo video che ho dedicato abbiamo visto in generale come utilizzarlo sia da mobile sia da browser sia da programma per windows oggi vedremo nello specifico come utilizzare i fotogrammi chiave con cap cut per usare per introdurre dei movimenti negli oggetti che si inseriscono in uno schermo in una schermata sia anche come fare il tracciamento cioè per tracciare degli oggetti che si stanno muovendo nel video all'interno del video ora nel momento in cui voi aprite cap cut visualizzerete questa finestra iniziale diciamo così in cui si va su crea un progetto per aprire la finestra principale ora però c'è una cosa interessante secondo me come vedete c'è invita amici io lo posso fare ma lo potete fare anche voi dopo che vi sarete iscritti andando sui vita amici qui verrà creato un link io copio questo link e questo link di invito lo metterò nella descrizione sotto il periodo video chi si registrerà con indirizzo email oppure con un credenziale di google di facebook come come vuole avrà sette giorni gratuiti di cap cut pro quindi potrà utilizzare per sette giorni tutte le funzionalità di cap cut pro e anch'io potrà utilizzare per sette giorni queste funzionalità ora chiaramente dopo sette giorni cosa succede succede che uno ritorna alla versione non pro quindi potrà utilizzare solo le funzionalità gratuite chiaramente non c'è nessun rischio perché non è richiesta la carta di credito nel senso che uno si registra con l'indirizzo email e la password e non dà nessun dato e ovviamente non c'è nessun rinnovo automatico visto che uno non dà neppure la carta di credito detto questo vediamo appunto quello che vi ho accennato cioè a come usare fotogrammi chiave e come usare il tracciamento si va quindi su crea un progetto si apre l'interfaccia principale e qui ci sono le varie schede si va su importa e si può chiaramente importare direttamente andando sul più si apre esplora file e si seleziona il video o i video o gli audio o le immagini da importare qui in questa finestra si può fare anche molto più semplicemente un drop and drop e si porta qui per esempio un video eccolo qua questo video poi viene mostrato qua nella te prima il video poi da questa finestra della finestra in porta si può trascinare nella timeline così e chiaramente si può far andare si può far andare sia andando sul play qui sia andando sulla barra spaziatrice inizia la riproduzione termina la riproduzione ora cosa sono le fotogrammi chiave eccoli qua sono queste losanghe che se mi seguite le avete già viste sia su shot cut sia su davici risolve e servono per aggiungere un movimento a un oggetto che si inserisce nel video quindi inseriamo per esempio uno sticker andiamo su qui come vedete sono gli audio testo stiche andiamo su sticker e scegliamo lo sticker andiamo su animali ecco qua animali ecco inseriamo questo sticker qua che non è pro vedete quelli pro c'è la scritta pro questo non è pro qui pro non ce ne sono praticamente quindi sono tutti gratuiti questi qui in animali inseriamo questo per inserirlo si può andare sul più oppure si può semplicemente trascinare nella timeline e verrà trascinato al di sopra della traccia ecco fatto vedete questo è uno sticker si posiziona all'inizio e poi si può trascinare in fondo per visualizzarlo per tutto il video e se io faccio andare o tocco sulla barra spaziatrice posso anche spostare il mouse vedete questo modo per visualizzare velocemente tutto il video si tratta di una gif come vedete animale uno sticker animato io posso cliccarci sopra per andare in quello che su da vincere solo si chiama inspector qui invece si chiama all'altra maniera ci sono le funzionalità per personalizzare questo sticker e io chiaramente come faccio ci clicco sopra per esempio e con le maniglie lo posso per esempio ridimensionare e posizionare qua all'inizio del video stesso dopo che l'ho posizionato qua come vedete qua io usando i fotogrammi chiave sul trasforma posso fare in modo di creare un movimento di questo sticker io vado su questo in alto quindi andando su questo in alto significa che io applico i fotogrammi chiave sia alla dimensione sia alla posizione sia alla rotazione io potrei applicare dei fotogrammi chiave soltanto alla dimensione soltanto alla posizione soltanto alla rotazione ma io li applico a tutti cliccando qui si accenderanno tutti i fotogrammi chiave e come vedete è stato aggiunto un fotogramma chiave anche all'inizio quindi all'inizio questo gattino si trova in questa posizione io poi sposto l'indicatore di riproduzione o testina di riproduzione alcuni chiamano così per esempio un po' più avanti qui e in questo punto voglio che questo sticker cambi posto e vada per esempio qua magari lo posso anche ruotare così e lo posso anche un po' ridimensionare fino ad esempio così lo faccio diventare più piccolo poi sposto ancora in avanti l'indicatore di riposizione di riproduzione e a questo punto voglio che il gattino vada più o meno a metà qua lo faccio diventare più dritto magari di aumento un po' di dimensione poi lo sposto ancora in avanti e il gattino lo faccio andare sulla destra qui un po' più in alto e magari le faccio ruotare stavolta un po' più così ecco fatto poi sposto ancora in avanti l'indicatore di riproduzione come vedete funziona esattamente come negli altri programmi che abbiamo visto si sposta poi questo qua lo metto qui lo ruoto nell'altro senso lo rimpicciolisco poi sposto ancora un po' più in avanti e sposto invece il gatto da quest'altra parte lo raddrizzo e magari lo aumento anche di dimensioni così poi mi sposto alla fine quasi alla fine diciamo così e faccio in modo che il gatto non si veda più cioè lo porto fuori dallo schermo ecco fatto quindi ho applicato i fotogrammi chiave che creeranno un movimento io vado all'inizio e adesso posso riprodurre il video quello che succederà succederà che il gattino la gif del gattino lo sticker si muoverà nello schermo secondo i fotogrammi chiave che vi ho impostato se un fotogrammi chiave non ci piace si può cliccare sopra diventerà di colore verde si va su cancio poi dentro il mouse si va su elimina per eliminarlo si può anche come vedete copiare e quindi creare un altro fotogrammi chiave accanto a in un'altra posizione rispetto a quello a quello che abbiamo appunto selezionato in questo caso lasciamo perdere deselezioniamo andiamo all'inizio e vediamo il risultato di questi fotogrammi chiave che ho inserito vado sul play vedete ho impostato una rotazione e un movimento come vedete si sta spostando lungo lo schermo secondo le indicazioni che ho dato io ai fotogrammi chiave e adesso alla fine scomparirà dallo schermo andando tutto sulla sinistra così ecco fatto questo avete visto come funziona i fotogrammi chiave è semplicissimo ora non sempre ci sarà la possibilità di applicare i fotogrammi chiave quando c'è la possibilità di applicare i fotogrammi chiave si vede che nel parametro in cui c'è la possibilità di applicare i fotogrammi chiave c'è questa losanca questo grombo sulla destra sulla destra del parametro stesso per esempio se io inserissi un testo non è detto che in questo testo ci possa essere i fotogrammi chiave per esempio inseriamo questo testo vediamolo qua ecco vedete qui in questo testo non ci sono i fotogrammi chiave non ci sono le losange io non le vedo e quindi se si utilizza questo testo si può inserire come ci fare qui però non si può muovere con i fotogrammi chiave perché rimane fisso perché non c'è appunto la losanga eliminiamolo e adesso vediamo invece come usare il tracciamento togliamo selezioniamo tutto qua e andiamo su cance per eliminare aggiorniamo su importa e importiamo un nuovo video portiamo questo video qua per esempio qua è un video di due ragazzi che camminano praticamente tutto semplice si sposta nella timeline come sapete qui si può anche fare in modo di selezionare soltanto una parte del video con queste maniglie vedete in questo caso lasciamo tutto il video e spostiamolo nella timeline così e adesso applichiamo un testo ma un testo che abbia la possibilità di essere animato per applicare un testo si va sempre sul testo qui e andiamo su messaggio per esempio ecco fatto aimissio come messaggio scegliamo questo testo qua basta che caccia sopra e si vede subito come funziona si sposta sopra la timeline nella traccia sovrastante si fa andare lungo tutta la durata del video ora adesso bisognerà personalizzarlo qui se si clicca sopra qui ci sono le personalizzazioni come vedete non ci sono i fotogrammi chiave quindi per animarlo non si possono usare i fotogrammi chiave però lo potremmo animare ugualmente con il tracciamento io per esempio scrivo invece che miss you mi chiamo John ecco fatto qui naturalmente posso scegliere il tipo di fonte che mi pare quindi qui posso scegliere anche il tipo di colore che mi pare posso metterci il grassetto il ricorsivo quello che mi pare posso anche ridimensionare la trascritta e posizionare per esempio qui mi chiamo John e questo si chiama John però chiaramente se io faccio andare il video poi questo si sposta e però il fumetto rimane lì come si fa ad animarlo secondo lo spostamento del soggetto si seleziona ovviamente la clip del testo e andiamo qua sul tracciamento eccolo qua clicchiamo sul tracciamento qui e noi dobbiamo impostare il tracciamento il tracciamento lo imposto in questo punto qua per esempio posso anche diminuire la ecco più o meno così questo è il tracciamento rispetto anche alla persona mi chiamo John rispetto si sposterà secondo lo spostamento di questa persona però prima di farlo devo andare su inizia come vedo ci sono due possibilità io posso attivare il ridimensionamento cioè se si ridimensiona il soggetto si ridimensiona anche la scritta oppure posso mettere la distanza segui l'oggetto di tracciamento quindi io posso selezionare il tipo di tracciamento io seleziono entrambi i tipi di tracciamento e entrambe le direzioni cioè in avanti e indietro quindi vado su inizia e ti inizierà il tracciamento vedete il video è avanti e viene tracciato il movimento di questa persona la scritta diminuisce di dimensione perché diminuisce di dimensione anche la persona tracciamento completato si può vedere il risultato io posso naturalmente deselezionare il tracciamento e magari per vederlo senza il tracciamento stesso in questo modo come vedete segue la persona che ho tracciato forse lo potevo mettere più vicino ma ormai ho fatto così da bene possiamo fare la stessa anche per quest'altra persona possiamo scegliere stavolta questo qua lo posizioniamo sopra lo allunghiamo anche qui posso naturalmente cliccare e selezionare il tipo di carattere il tipo di colore eccetera eccetera la lascio perdere faccio fare a voi eventualmente se volete utilizzare posso impostare la trasparenza oppure no lo sfondo l'ombra eccetera eccetera io vi voglio far vedere soltanto il tracciamento per fare il tracciamento si sposta questo qua vuol dire I miss you si mette per esempio mi chiamo Matt ecco fatto lo riposizioniamo per esempio qua e adesso facciamo un nuovo tracciamento ma stavolta rispetto a quest'altra persona quindi andiamo sul tracciamento impostiamo il tracciamento e impostiamo il tracciamento rispetto a questo punto qua più o meno lasciamo sempre sia il tracciamento per la dimensione sia per la distanza andiamo su inizia e ci sarà un secondo tracciamento la scritta si rimpicciolisce perché si rimpicciolisce anche la figura adesso ed ecco la fine del tracciamento possiamo adesso vedere il risultato possiamo per esempio deselezionare tutto andare sul play e questo è il risultato finale come vedete anche se non c'erano i fotogrammi chiave siamo comunque riusciti ad animare delle scritte diciamo che adesso sono soddisfatto del video quindi posso passare al suo salvataggio prima di andare a esportarlo vado qua sul rapporto e scelgo il rapporto a seconda di dove lo voglio pubblicare in questo caso lascio 16 noni perché magari un video tipo youtube chiaramente potrei mettere 9 sedicesimi se utilizzassi tiktok magari un'altra cosa metto 16 noni quindi adesso lo posso esportare vado su esporta se avessi utilizzato delle funzioni pro mi direbbe che non è possibile esportare perché prima mi dovrei abbonare in questo caso non ho usato nessuna funzione pro quindi posso esportare si aprirà questa finestra io posso mettere il nome passeggiare passeggiata basta così qui scelgo la caratteria destinazione la risoluzione 1080p ma come vedete posso scegliere anche 2k e 4k bitrate lascio consigliato il codec l'accio h264 ma potrei scegliere anche hivc e av1 il formato mv4 potrei scegliere anche mov e la frequenza del bitrate lascio 30 fotogrammi per secondo ma come vedete posso andare da 24 a 60 a questo punto vado su esporta sarà la generazione e il video sarà esportato quindi apro la cartella poi per visualizzarlo ecco il video come vedete è proprio quello che ci si aspettava e questo è tutto sul tracciamento e sui fotogrammi chiave di capcat alla prossima volta che si aspettava Grazie.